Bottino ricco per Alessandra Centrone all'Europeo Junior di Canoa. La Slovacchia sorride alla 18enne barese che ha chiuso al secondo posto nel K1 200 metri e al terzo nel K4 500 metri. Esulta dunque il canottieri Barion del presidente Francesco Rossiello per aver visto una delle sue tesserate di punta consacrarsi anche a livello continentale. Una finale è quella del K1 che ha lasciato un briciolo di amarezza. L'oro vinto dalla polacca Dominika Jimnok è sfumato per tre decimi con l'ungherese Zita Bauer al terzo posto. Il ritorno in acqua nel K4 in ogni caso ha riservato un'altra bella notizia per Alessandra Centrone, Sofia Vianello, Sofia Zucca ed Elena Murtas che sono riuscite a chiudere al terzo posto alle spalle di Ungheria e Spagna. Due gare e due medaglie per la giovane del canottieri Barion che ormai rappresenta un'assoluta certezza per la nazionale anche sulla scorta del grande lavoro preparatorio del suo tecnico Dario Bianchini. Il calendario intanto è fitto per la Centrone impegnata nel raduno a Castel Gandolfo fino a metà luglio. Nel Mirino ci sono i mondiali di Plodiv in programma dal 21 luglio.